Romina Power in vacanza con con il figlio Iari, ma il pensiero rivolto ad Albano Carrisi. Romina Power, è stata impegnata con il suo ex marito, ovvero Albano Carrisi, in una serie di concerti tenuti in Australia. Dopo diverse settimane di lavoro adesso Albano ha deciso di tornare in Italia mentre Romina si è presa qualche giorno di relax insieme al figlio Iari. Madre e figlio così sono partiti per un viaggio in Thailandia, ma a quanto pare sembra che il pensiero sia sempre rivolto al suo ex marito. Madre e figlio dopo essere stati insieme all'Albano e a Christel in occasione del tour a Sydney, hanno deciso di prendersi qualche giorno di riposo e così hanno fatto un viaggio in Thailandia. Sembra che Romina ed il figlio abbiano effettivamente un grande feeling, non soltanto sul palcoscenico. Come abbiamo visto, dalla Thailandia però Romina sembra pensare anche ad Albano, in una cornice perfetta quale una barca e la natura incontaminata del posto dove si trova. Su Instagram infatti Romina, sembra aver condiviso uno scatto che la ritrae proprio insieme al suo ex marito durante il concerto in Australia. In questo scatto i due appaiono piuttosto sorridenti, e senza dubbio sono davvero una coppia artistica, perché anche solo da una foto si percepisce l'amore che in passato li ha uniti e l'affetto che ancora oggi li lega. Molti fan sperano di poter rivedere insieme come coppia Albano e Romina Power, ma spegnere ogni speranza è stata proprio la stessa cantante statunitense. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale nuovo, la cantante avrebbe fatto una confessione piuttosto scioccante, ovvero avrebbe detto al direttore Riccardo Signoretti questa frase specifica, Albano e Romina insieme non li vedrete mai. Sono parole molto dure e soprattutto Romina, sembra essere piuttosto convinta di ciò che ha detto e lo ha confermato anche durante un loro colloquio. Si è trattato quindi di una doccia fredda che ha praticamente scioccato tutti quanti, soprattutto quelli che volevano vederli insieme. In genere però Romina non è solita parlare così spudoratamente di sé e della tua vita privata, ma questa volta sembra essersi sbilanciata un po' di più. Come sappiamo i due si sono separati ormai tanti anni fa, e stando a quanto hanno fatto intendere gli stessi, la causa della fine della loro relazione fu la tragica scomparsa di Ilenia, la loro primogenita di cui non si hanno notizie dal 1993.